...attacca Movimento 5 Stelle. Io credo che i cittadini italiani e romani non riescano neanche ad immaginare Roma per altri tre anni con Marino. Tra l'altro con questo mostro a due teste che hanno creato. La verità è che non vogliono andare a votare. Noi vogliamo andare all'elezione perché Roma si libera con la democrazia.